Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo anche che sono attiva anche su Facebook. Detto questo, diamoci dentro col video. La narrazione del caso di oggi comincia con una domanda. Come possono le divergenze apparentemente superabili trasformarsi in un abisso senza fondo o accendere una fiamma distruttrice? È l'inizio di marzo del 2012 e ci troviamo a Shoreditch, un quartiere vivace dell'East End di Londra. La protagonista di questo caso è Gemma McCluskey, di 29 anni, nata il 5 febbraio 1983. I suoi genitori si chiamano Anthony e Pauline e Gemma ha due fratelli maggiori, Danny, più grande di lei di circa 8 anni e Tony, che ha 6 anni più di lei. Il padre di Gemma, Anthony, sostiene che con la nascita della figlia ha sentito che finalmente la sua famiglia era il completo. Anthony lavora come costruttore e muratore, mentre Pauline fa la casalinga e si occupa dei figli. A detta di tutti, la loro è una famiglia felice. Anthony e Pauline hanno sempre fatto del loro meglio per provvedere al benessere dei figli, per far sì che vivessero una buona infanzia. Gemma è gentile e premurosa, viene descritta come una ragazzina frezzante, caratterialmente è simile al fratello Danny, un ragazzo pieno di vita e sicuro di sé, mentre Tony è un po' più timido e riservato. Le amiche di Gemma la considerano l'anima della festa, perché quando entra in una stanza, cattura immediatamente l'attenzione di tutti. Fin da bambina, Gemma ama avere i riflettori puntati su di sé, essere al centro dell'attenzione. Infatti, vuole diventare un'attrice. E ci riesce! Ad appena sette anni, Gemma viene accettata in una scuola di recitazione e presto ottiene il suo primo ruolo in uno show televisivo per bambini. Poi, crescendo, viene scritturata per altri lavori. Le viene assegnato un ruolo in un dramma televisivo, recita in qualche pubblicità, ma la grande occasione arriva nel 2000, quando Gemma ha 17 anni e viene scelta per interpretare il ruolo di Carrie Skinner nella subopera EastEnders, che nel Regno Unito conquista milioni di spettatori, diventando molto popolare. Gemma è al settimo cielo quando tiene questo lavoro e anche i suoi amici e familiari sono tanto emozionati per lei. Gemma appare in circa 34 episodi della subop, ma nel febbraio del 2001, dopo circa tre mesi di riprese, il suo personaggio viene cancellato dallo show. Gemma è triste, ma non si butta giù, continua a partecipare ad altre audizioni. Tuttavia, con il tempo, la sua grande passione per la recitazione sfuma e Gemma decide di dedicarsi ad altre attività che le apportino benessere. All'età di 20 anni, Gemma trova lavoro in un pub locale ed è soddisfatta perché questo impiego si adatta bene alla sua personalità socievole. Tuttavia, quando Gemma ha circa 28 anni, la sua vita e quella del resto della famiglia McCluskey prendono una svolta infelice perché a Pauline, la madre della ragazza, viene diagnosticato un tumore al cervello. È il 2011, in questo periodo Gemma vive in un appartamento a Powder Street, sempre a Shoreditch, con sua madre e suo fratello Tony perché Pauline e il marito Anthony si sono separati. Quindi, quando Pauline si ammala, Gemma diventa la sua badante. Gemma, per sua mamma, è sempre presente. La sostiene tantissimo, ma purtroppo le condizioni di salute della donna peggiorano nel tempo. Pauline sviluppa una brutta infezione e non può più stare a casa. Deve essere ricoverata in ospedale, dove i dottori possono monitorarla in ogni momento. Gemma e Tony rimangono a casa da soli, ma la ragazza va a trovare sua madre in ospedale tutti i giorni. Nel frattempo, continua a lavorare al pub, si occupa dell'appartamento, cerca di tenerlo pulito e in ordine. Di conseguenza, è una donna molto impegnata, ma ciò non l'è di peso. Gemma farebbe qualsiasi cosa per stare vicino a sua madre, ma non solo. Gemma ama aiutare tutti, talvolta anche chi non conosce. Nella zona ormai tutti sanno chi è, una ragazza tanto dolce e cara. Ecco perché, quando a marzo del 2012, Gemma sparisce improvvisamente, tutti rimangono sconcertati. Precisamente, il 3 marzo 2012, i fratelli maggiori di Gemma, Danny e Tony, e una sua cara amica di nome Nicole, vanno tutti insieme alla stazione di polizia locale per denunciare la scomparsa della donna. Non hanno notizie di lei dal primo marzo e l'ultimo ad averla vista è Tony, il fratello con cui vive. Quindi, due giorni prima, si trovavano entrambi nel loro appartamento. Poi, nel pomeriggio, Gemma era uscita, ma non era più tornata a casa. Tony, molto preoccupato, ha cercato di mettersi in contatto con lei per avere sue notizie, ma la sorella non ha mai risposto al telefono. Un comportamento insolito per Gemma, che comunicava sempre dove si trovava. Per non pensare subito al peggio, la famiglia di Gemma aveva presunto che la ragazza si trovasse a casa di qualche amica, ma le varie telefonate intercorse tra loro avevano accertato che non era così. Nessuno aveva sue notizie e la preoccupazione di tutti era aumentata. Il fratello maggiore di Gemma, Danny, era andato a cercarla sul luogo di lavoro dove aveva saputo che la sorella non si era presentata per il proprio turno, la sera del primo marzo, e non aveva dato spiegazioni. I colleghi l'avevano chiamata più volte interfacciandosi soltanto con la segreteria telefonica e avevano concluso che forse Gemma fosse malata. Dopo due giorni di lei non c'era ancora traccia, così i suoi cari avevano deciso di chiedere aiuto alla polizia, denunciando la scomparsa di Gemma. La polizia raccoglie le dichiarazioni dell'amica Nicole e dei due fratelli di Gemma. Si concentrano soprattutto su Tony, l'ultima persona che l'ha vista, per ottenere quante più informazioni possibili. Raccolte le dichiarazioni di Tony, la polizia dà il via alle ricerche di Gemma, contando sulla collaborazione di amici e parenti della ragazza, che stampano manifesti, le distribuiscono o le appendono in giro, si recano nei negozi per chiedere se qualcuno abbia visto Gemma di recente. Una traccia della ragazza viene fornita da un dipendente di una kebabberia locale, che riferisce alla polizia di aver visto Gemma nel locale la sera in cui è scomparsa, quindi dopo che Tony l'ha vista per l'ultima volta. La polizia recupera il filmato della telecamera presente nella kebabberia, ma si scopre che quella donna, ripresa, non è Gemma. Il dipendente del locale si era semplicemente sbagliato, la sua traccia sbuca in un vicolo cieco. Le indagini proseguono e ben presto questo caso attira l'attenzione dei media, perché emerge che la ragazza scomparsa è un'ex attrice della soppopera Estenders, quindi i giornalisti si interessano particolarmente alla storia, dando risonanza alla sparizione di Gemma. La polizia ne trae diversi suggerimenti o indicazioni forniti dal pubblico e che esamina con cura, ma giungendo alla conclusione che non portano a nulla. Poi, cinque giorni dopo la scomparsa di Gemma nel pomeriggio del 6 marzo 2012, la polizia, gli amici e la famiglia della ragazza ricevono una notizia terribile. Intorno alle 14.30 una donna stava navigando su una chiatta lungo il Regent's Canal ad Acne, non lontano da dove vive Gemma. Procedendo, la donna si è resa conto che l'imbarcazione urtava contro qualcosa nell'acqua. Ha guardato in basso e ha visto che si trattava di una valigia. Quando l'ha trascinata su, la valigia si è aperta da sola, lasciando la donna inorridita per il suo contenuto. Un busto umano. Sì, soltanto il busto, quindi quel cadavere era stato smembrato e la testa si trovava chissà dove. La donna sconvolta aveva contattato la polizia, così la valigia e il busto deturpato sono stati mandati in laboratorio per effettuare dei test. Tuttavia la polizia temeva già che quel torso appartenesse a Gemma perché sul fondo della schiena c'è il tatuaggio di una farfalla identico al suo e il medico legale conferma i sospetti dopo aver analizzato il DNA. La polizia quindi dà la notizia ai parenti e agli amici di Gemma che sono devastati e increduli ragionando su chi possa aver fatto del male a una donna gentile come lei. Anche la polizia deve comprenderlo. Quale può essere il movente dietro questo delitto? L'indagine ovviamente cambia. Non stanno più cercando una persona scomparsa, ma investigando su un omicidio. Il primo obiettivo della polizia è quello di trovare gli altri resti di Gemma affinché il medico legale possa determinare la causa della sua morte. Vengono quindi viati dei sommozzatori nel canale. Forse l'assassino aveva scaricato anche il resto del suo corpo in quelle acque. Le ipotesi sono corrette, infatti nei giorni successivi vengono trovate altre parti del cadavere, precisamente gli arti, posizionati in alcuni sacchi della spazzatura. Attraverso il test del DNA viene confermato che appartengono a Gemma. Tuttavia la testa della donna risulta ancora dispersa, i sommozzatori non l'hanno rinvenuta nel canale e il medico legale non riesce ancora a determinare la causa del decesso, quindi le ricerche proseguono. Nel frattempo la polizia deve individuare l'assassino e cerca di stabilire con precisione cosa avesse fatto Gemma il giorno della sua scomparsa. I detektivi ricostruiscono una presunta cronologia del suo ultimo giorno di vita nella speranza di delineare i profili dei sospettati. Viene stabilito che la mattina del primo marzo 2012 Gemma si era svegliata a casa sua, nell'appartamento dove viveva con il fratello Tony, aveva fatto colazione e poi si era preparata. Più tardi, sempre in mattinata, era andata a Royal London Hospital a Whitechapel per l'apertura di una nuova ala dell'ospedale e per assistere all'esibizione della figlia di una sua amica che cantava nel coro della scuola. Gemma aveva visto lo spettacolo e fatto dei filmati con il suo cellulare come vi mostro in questa foto. Gemma indossa quello che a me pare un maglioncino arancione. Aveva deciso di filmare la recita perché la sua amica non poteva partecipare quindi ci teneva a conservarle un ricordo della figlia. Dopo lo spettacolo in ospedale Gemma era andata proprio a casa dell'amica per mostrarle le riprese. Poi altre amiche avevano raggiunto le due donne ed erano rimaste lì a chiacchierare, bere un drink e divertirsi. Tuttavia le amiche di Gemma riferiscono alla polizia che la donna sembrava un po' nervosa così gli avevano chiesto se ci fosse qualcosa che non andava e lei aveva raccontato di aver litigato con il fratello maggiore Tony. Tony ha 35 anni e come detto ha un carattere diverso da quello di Gemma, fattore che li portava a litigare spesso. Gemma era una donna ambiziosa che lavorava duramente invece Tony viene descritto come un tipo pigro che si cimentava in lavori saltuari e part time, per ultimo quello del lavavetri. Aveva anche provato a diventare un costruttore come suo padre e Anthony gli aveva comprato un set di strumenti particolarmente costosi ma Tony aveva rinunciato all'idea quasi subito. Tony non ha tante aspirazioni come la sorella minore, non è determinato quanto lei. Parecchi amici o familiari di Gemma credono che lui probabilmente fosse geloso della sorella perché lei aveva successo e in precedenza aveva ottenuto una parte in uno dei più grandi programmi televisivi della Gran Bretagna. Sì e anche se la sua carriera adattrice si era conclusa presto Gemma aveva trovato un altro lavoro che amava nel pub. Ma non erano le divergenti ambizioni a costituire la ragione principale della lite tra i due fratelli nell'ultimo periodo. Il problema era che Tony consumava sostanze come la polverina bianca e fumava la sostanza leggera andando ben oltre l'uso ricreativo. Da quanto letto dalle fonti Tony fumava dalle 15 alle 20 sigarette particolari al giorno che è davvero una quantità elevata dunque doveva sembrare uno zombie per la maggior parte del tempo. Questa situazione frustrava particolarmente Gemma anche perché il fratello fumava nell'appartamento facendole inalare di continuo l'odore forte della sostanza. Tony si tappava in casa e la sua unica attività era fumare. Gemma si arrabbiava parecchio perché era la sola a ripulire e riordinare l'abitazione che versava sempre in un completo disastro a causa del fratello. Ed ecco perché avevano iniziato a litigare sempre più spesso. Tony era diventato aggressivo e violento nei suoi confronti, picchiava la sorella, la schiaffeggiava e in un paio di occasioni aveva tentato anche di strangolarla. Ebbene sì, durante una discussione le aveva messo una mano intorno al collo e aveva iniziato a stringere procurandole dei lividi. Quando Pauline viveva ancora nell'appartamento prima di essere ricoverata in ospedale aveva addirittura scritto alle autorità locali chiedendo se potessero assegnare una casa a suo figlio Tony perché era diventato troppo aggressivo nei confronti della sorella ma la richiesta era caduta nel vuoto. Poi sei settimane prima della morte di Gemma Pauline era stata ricoverata perché bisognosa di cure specifiche e litigi tra i suoi figli erano peggiorati sempre di più. Gemma non era più disposta a sopportare Tony. Questo ci riporta al giorno della sua scomparsa all'episodio che Gemma aveva raccontato alle amiche. Lei e Tony avevano litigato quella mattina presto perché lui una volta sveglio aveva cominciato a riempire la vasca per farsi un bagno ma poi era tornata a dormire lasciando i rubinetti aperti. Poco dopo Gemma era entrata nel bagno e aveva visto l'acqua che strabordava dalla vasca e riempiva tutto il pavimento. Gemma ormai davvero stufa era entrata in camera di suo fratello, lo aveva svegliato e aveva iniziato a urlargli contro chiedendogli come potesse essere così irresponsabile, ben più di un adolescente. Era arrivata a dirgli che doveva fare le valigie e uscire da quella casa, trovarsi una sistemazione per conto proprio. Aveva aggiunto che al suo ritorno non avrebbe voluto vederlo lì. Gemma poi aveva lasciato l'appartamento per andare all'ospedale a vedere l'esibizione del coro della scuola, poi si era fermata a casa dell'amica dove aveva raccontato la discussione tra lei e il fratello. Mentre era lì aveva ricevuto la chiamata di Tony che gridava e la insultava al telefono arrabbiato perché lei lo aveva cacciato di casa. Tony urlava così forte che tutte le amiche di Gemma erano riuscite a sentirlo. Dopo questa chiamata alle 13 e 15 Gemma era uscita dall'abitazione della sua amica, era salita in macchina e si era diretta a casa. Un video registrato da una telecamera a circuito chiuso riprende Gemma che guida verso casa sua in Powder Street alle 13 e 50. Quindi si sa con certezza che era rientrata, tuttavia non si era mai presentata per il turno di lavoro al pub più tardi quella sera. Dunque cosa le era accaduto nel pomeriggio? Dopo aver appreso tutte queste informazioni la polizia ovviamente sospetta che sia Tony il colpevole e pensare che era sembrato un fratello maggiore premuroso, tanto preoccupato per la scomparsa della sorellina, era tutta una finta. Fino a questo momento Tony non era stato considerato come una persona di interesse per le indagini, come un sospettato, ma soltanto come un testimone importante dato che era l'ultima persona ad aver visto Gemma. Tuttavia ora le autorità dubitano della sua innocenza e rivalutano sotto una nuova luce il suo comportamento dopo la scomparsa di Gemma. Come detto il 3 marzo i fratelli di Gemma, Danny e Tony e l'amica Nicole avevano denunciato la sua scomparsa e la polizia si era soffermata su Tony perché descrivesse dettagliatamente questa fatidica ultima volta in cui aveva visto la sorella. Dove si trovava? Che ora era? Aveva detto o fatto intuire dove sarebbe andata? Tony però non aveva le idee chiare, infatti aveva cambiato versione circa tre volte. Prima aveva detto di aver visto Gemma per l'ultima volta intorno alle 15, poi se l'era rimangiato perché sull'ora era davvero confuso. Danny, il più grande dei fratelli McCluskey, era presente mentre Tony rilasciava la dichiarazione ed era proprio infastidito dalle sue titobanze, tanto che gli aveva urlato contro. Tony devi ricordare, questi agenti hanno bisogno di quante più informazioni possibili. Danny pensava che il motivo per cui Tony si confondeva fosse il suo stato alterato dalle sostanze, ma forse non era così. Probabilmente Tony cambiava versione dei fatti perché cercava di nascondere che era stato lui a uccidere la sorella. Persino i media notano che il comportamento di Tony è in netto contrasto con quello di Danny. Appena Gemma era scomparsa, Danny si era subito attivato per cercare di ritrovarla, era andato immediatamente a parlare con diverse persone che la conoscevano, per sapere se avessero idea di dove fosse. Aveva anche cercato di coinvolgere dei giornalisti affinché diffondessero la notizia della sparizione di Gemma. Inoltre, mentre Danny cercava Gemma insieme ad amici e familiari, Tony aveva deciso di rimanere a casa, anche se aveva dichiarato che la stava cercando anche lui, ma da solo. Ricapitolando, si è scoperto che Tony era spesso violento e si comportava male nei confronti di Gemma, ma per il momento la polizia non ha alcuna prova concreta che lo colleghi al crimine, che confermi che è lui l'assassino o che lo escluda dalla lista dei sospettati. Con il supporto di una squadra forense, la polizia perquisisce l'appartamento che, fino a pochi giorni prima, Tony condivideva con Gemma, l'ultimo posto in cui lui l'avrebbe vista. Gli agenti trovano in cucina un ciappo di coltelli e quando ne tirano fuori uno, notano che presenta una piccolissima macchia di sangue. Seppure dalle rilevazioni scientifiche si accertasse che quel sangue appartiene a Gemma, questo non proverebbe nulla di concreto, dato che la ragazza viveva in quella casa e poteva essersi tagliata accidentalmente mentre cucinava. Stesso discorso per il bagno, dove vengono individuate e analizzate altre macchie di sangue appartenenti a Gemma, così piccole da non poter provare che lì sia avvenuto un omicidio. Magari Gemma si era semplicemente tagliata usando una lametta. In sostanza, dalla perquisizione in casa non emerge nulla di incriminante, così la polizia controlla i tabulati telefonici di Tony e scopre che il 2 marzo, il giorno dopo la scomparsa di Gemma, lui le aveva inviato un messaggio per comunicarle che quella mattina era stato in ospedale per fare visita alla madre Pauline. Tony scrive a Gemma che la mamma sta bene e i dottori sono molto contenti dei suoi progressi. Alla fine del messaggio la saluta con ti voglio bene, baci. Sembra un comune messaggio inviato da un fratello alla sorella, tuttavia quando la polizia esamina gli altri messaggi che Tony aveva inviato a Gemma precedentemente si rende conto che lui non le aveva mai scritto prima quel ti voglio bene baci. Anzi, in tutti i messaggi precedenti Tony ha un tono aggressivo, incattivito. Tony trattava malissimo Gemma e lo faceva per la maggior parte del tempo. Questo è un altro indizio che desta dei sospetti. Sembra che Tony avesse previsto che la polizia avrebbe controllato il suo telefono, dunque voleva sembrare un fratello amorevole e non perfido e scorbutico. La polizia è sempre più convinta della colpevolezza di Tony, nonostante sia in possesso unicamente di prove circostanziali. Tuttavia gli investigatori sono fiduciosi di come stanno procedendo le indagini e decidono di arrestarlo comunque con l'accusa di omicidio. È il 7 marzo 2012, sono passati soltanto sei giorni da quando Gemma è stata vista l'ultima volta. Una volta arrestato, Tony viene portato alla stazione di polizia per essere interrogato, ma si rifiuta di rispondere a qualsiasi domanda. Le uniche parole che ripete sono no comment. Vorrei sottolineare che questo è un suo diritto, ma la polizia considera questo rifiuto significativo. Prima del ritrovamento del busto di Gemma nella valigia, Tony era ben disposto a collaborare con la polizia. Ora si comporta in modo opposto. Uno dei detective gli dice durante l'interrogatorio, sicuramente vorrei collaborare con noi, aiutarci a scoprire la verità su Gemma. Ma anche in risposta a questa affermazione Tony ripete no comment. Il suo silenzio sembra etichettarlo come l'assassino, ma come vi ho detto la polizia non ha prove concrete per solidificare l'accusa. Così cerca di scoprire i movimenti di Tony nei giorni successivi all'omicidio. Mentre riesamina i tabulati telefonici e controlla i filmati di diverse telecamere a circuito chiuso della zona di residenza di Gemma, la polizia nota che la sera del 2 marzo 2012, il giorno dopo la sua scomparsa, Tony aveva contattato un servizio di taxi locale. Così rintraccia la compagnia. Quest'ultima spiega agli agenti che Tony aveva fornito un nome falso, Tom. Il che è strano, aveva forse qualcosa da nascondere? La polizia parla anche con il tassista che era andato a prendere Tony quella sera, il quale spiega che lui aveva al seguito una valigia davvero grande e pesante, tanto che faticava a trascinarla. Sorridendo il tassista glielo aveva fatto notare, domandando anche, chi hai lì dentro? E Tony aveva risposto che conteneva uno stereo molto molto grande. La polizia pensa immediatamente al fatto che il torso di Gemma è stato trovato in una valigia, quindi si convince che Tony stava trasportando il busto smembrato di sua sorella minore. Il filmato della telecamera a circuito chiuso nella zona riprende proprio Tony alle prese con l'enorme valigia che poi ripone nel bagagliaio del taxi. Il tassista riferisce alla polizia che Tony aveva chiesto di essere portato in Dustin Road ad Hackney, proprio vicino al canale dove è stata trovata la valigia con all'interno il torso di Gemma. Ci sono ulteriori filmati che ritraggono Tony più tardi quella notte mentre rientra a casa dopo essersi sbarazzato della valigia che non è più con lui. La polizia sequestra il taxi utilizzato per accompagnare Tony quella sera e lo fa esaminare da una squadra forense. Nel bagagliaio del veicolo si rilevano delle tracce di sangue e a seguito delle analisi si è certa che appartengono a Gemma. Questa sì che è una prova solida e concreta, finalmente! Quella valigia conteneva davvero il torso della poverina. Con tutte queste prove a disposizione il 10 marzo, nove giorni dopo la scomparsa di Gemma, gli inquirenti possono rinforzare l'accusa contro Tony sull'omicidio di sua sorella minore. Il resto della famiglia McCluskey è scioccata quanto devastata. Com'è possibile che Tony abbia fatto tutto questo alla sorellina che l'abbia uccisa smembrata e che abbia gettato i suoi resti in un canale? Pensate che il padre, Anthony, non vuole crederci. Allora la polizia decide di mostrare a lui e al primo genito Danny il filmato a circuito chiuso in cui Tony trascina la valigia e la sistema nel bagagliaio del taxi. Solo a questo punto Anthony metabolizza che il suo secondo figlio è un assassino che ha ucciso in modo orribile, brutale, sua sorella minore. Tutto questo per la famiglia di Gemma deve essere davvero insopportabile, a maggior ragione perché Tony, dopo la scomparsa della sorella, si comportava come un fratello preoccupato, amorevole e premuroso. In più, confortava i suoi cari invogliandoli ad avere fiducia. Attualmente l'unica parte del corpo di Gemma che non è stata ancora rinvenuta è la testa e, come ho detto prima, il medico legale non è riuscito a determinare la causa della sua morte perché il resto del corpo non presenta ferite evidenti. Probabilmente ad averla uccisa deve essere stata proprio una ferita infertale al cranio. È questa la teoria dominante. La ricerca prosegue nei mesi successivi e soltanto il 6 settembre 2012, più di sei mesi dopo l'omicidio, la polizia riceve finalmente una chiamata rilevante. La testa di Gemma è stata trovata. È stata scoperta da alcuni membri della comunità locale che stavano raccogliendo della spazzatura in un'altra zona del canale. Uno di loro ha notato un sacchetto della spazzatura nero che galleggiava nell'acqua. Lo ha afferrato e aperto, rischiando quasi un infarto, perché quel sacchetto conteneva una testa umana mozzata. Il gruppo ha contattato la polizia e dopo accurate analisi viene stabilito che quello è il cranio di Gemma. Il medico legale lo esamina e stabilisce che la causa della morte di Gemma è stata un trauma alla testa. La donna era stata colpita a morte almeno due volte con un corpo contundente che le aveva causato un'emorragia al cervello. Il patologo sostiene che l'arma del delitto potrebbe essere un posacenere di vetro. Finalmente la polizia sa come è morta Gemma. Il processo contro Tony inizia il 14 gennaio 2013 e lui si dichiara non colpevole. Intanto i suoi difensori sperano di riuscire a farlo condannare per omicidio colposo in quanto la sua versione dei fatti è cambiata di nuovo durante il processo. Tony ora sostiene che ha ucciso Gemma per legittima difesa. Racconta che il pomeriggio della sua morte Gemma era rientrata dopo essere stata a casa della sua amica ed era molto arrabbiata perché Tony non aveva lasciato l'appartamento come lei gli aveva chiesto di fare. Quindi Gemma aveva iniziato a urlargli contro dicendogli perché non te ne sei andato ti ho detto di andartene. Tony in aula spiega che lei era talmente arrabbiata che aveva afferrato un coltello e aveva iniziato a camminare verso di lui. Convinto che Gemma lo avrebbe aggredito Tony l'aveva spinta a terra poi l'aveva colpita alla testa con un oggetto pesante capitato agli attiero. Dopodiché udite udite era svenuto. Per questo non riusciva proprio a ricordare cosa fosse successo. Come no, nemmeno di averla smembrata e di essersi sbarazzato del suo corpo. La polizia e l'accusa non credono a nessun dettaglio della sua ricostruzione della vicenda e quest'ultima presenta alla giuria la sua versione dei fatti. Tony era un uomo divorato dalla gelosia, diventato astioso nei confronti di sua sorella, ormai da molti anni perché non poteva sopportare che lei avesse più successo di lui. Gemma era intelligente, determinata, estroversa e lavorava a sodo mentre Tony rappresentava l'esatto opposto. Era un uomo pigro, timido, interessato unicamente a rimanere a casa per soddisfare i propri vizi, tutti i giorni, tutto il giorno. Ma Gemma era stufa di quella situazione, stufa di vedere la sua casa perennemente a suo quadro, stufa dell'odore che riempiva l'ambiente visto che Tony fumava dalle 15 alle 20 sigarette particolari al giorno. Gemma non temeva di affrontare le persone, compreso Tony, e lui detestava che lei gli si opponesse. Magari pensava, è mia sorella minore, che diritto ha di dirmi cosa devo fare? In realtà Gemma aveva tutto il diritto di riprenderlo perché in assenza di Pauline, ricoverata in ospedale, era lei che si prendeva cura dell'appartamento, non Tony. Ma Tony non fregava nulla, ecco perché erano iniziate i litigi. La mattina del primo marzo, come vi ho già detto, Tony aveva aperto i rubinetti della vasca da bagno per immergersi, ma poi ci aveva ripensato ed era tornato a letto senza neanche richiuderli. Giusto per fare una precisazione, a me questa cosa non è mai successa, mai, ma neanche quando ero più piccola avevo la testa per pensare, ok Silvia, se ora non vuoi più farti il bagno, devi chiudere il rubinetto, ok, stappare la vasca e andare a farti cavoli tuoi. Io davvero non capisco, probabilmente aveva davvero il cervello completamente fuso. Boh, ditemi quali sono le vostre opinioni. Questa per Gemma era stata giustamente la goccia che aveva fatto traboccare il vaso, non era più disposta a sopportare il suo comportamento immaturo, quindi gli aveva detto che doveva andarsene, aggiungendo che non lo voleva vedere al suo rientro a casa. Tuttavia, una volta rincasata, Tony era ancora lì e di sicuro la discussione era rincominciata, ma soltanto Gemma e Tony sanno cosa è accaduto esattamente. Lei non può più parlare e lui non pare affatto intenzionato a dire la verità. È opinione di tanti che questo omicidio fosse stato addirittura premeditato, Tony era così tanto arrabbiato con Gemma che aveva già deciso di ucciderla al suo rientro a casa. Presumibilmente i due avevano cominciato a spintonarsi e a mettersi le mani addosso finché Tony aveva afferrato un pesante oggetto contundente, forse un posacenere, e l'aveva usato per colpire sua sorella minore alla testa, fino a causarle la morte. Dopodiché Tony aveva provveduto a sbarazzarsi del cadavere, sperava che non sarebbe mai stato trovato, che nessuno avrebbe mai scoperto quello che aveva fatto. Aveva deciso di smembrarlo, inizialmente usando un coltello seghettato da cucina, come si presume dal coltello lievemente insanguinato ritrovato dalla polizia. Ma ben presto Tony si era reso conto che non poteva reciderle le ossa con un'arma non sufficientemente affilata o robusta. Così era andato a comprare una mannaia. Poi era entrato nel supermercato locale per acquistare dei sacchetti neri per la spazzatura e vari prodotti per la polizia. Tornato nell'appartamento si era rimesso all'opera, poi aveva sistemato gli arti e la testa di Gemma nei sacchetti per la spazzatura e il busto in una valigia. Secondo la polizia, per evitare di spargere sangue ovunque, Tony aveva avvolto il corpo della sorella minore in un telo di plastica. Il giorno successivo aveva inviato un paio di messaggi a una ragazza che stava frequentando dicendole, scusa se ieri sera non ti ho risposto, ho avuto un incidente, non mi sentivo molto bene. Poi, come detto, aveva mandato un messaggio anche al cellulare di Gemma per riferirle dei progressi medici della madre, salutandola con un fittizio, ti voglio bene, baci, in contrasto con i toni aggressivi sempre utilizzati. Mentre il cadavere di Gemma si trovava ancora nell'appartamento, lui provava così a coprire le proprie tracce. Il taxi utilizzato per arrivare a Dunstan Road lo aveva condotto nei pressi del canale, dove aveva abbandonato la pesante valigia, gettandola in acqua. Tony era rincasato per poi uscire di nuovo qualche ora più tardi, era tornato al canale e si era sbarazzato di tutti gli altri resti del corpo di Gemma, suddivisi nei sacchi della spazzatura. Rientrato a casa per la seconda volta aveva ripulito meticolosamente l'appartamento, usando tutti i prodotti chimici e detergenti comprati al supermercato locale. Infatti la squadra forense, pur adoperando il luminol, non aveva rilevato nulla. Le uniche tracce di sangue trovate, come detto, risultavano troppo piccole per essere collegate a un'accusa di omicidio. Dopo essersi disfatto del corpo, Tony aveva iniziato a chiamare il resto della famiglia e gli amici di Gemma, esprimendo la sua preoccupazione perché la sorella era uscita di casa il primo marzo e non era più tornata a casa, andando lui stesso a fare denuncia. Tony si è ingegnato per depistare le indagini, ma in tribunale sostiene di aver avuto un'amnesia dopo l'omicidio. L'uomo non ricorderebbe di aver frazionato il corpo della sorella, di aver gettato i suresti nel canale, di aver pulito la scena del crimine? Ovviamente nessuno crede a questa versione dei fatti di Tony, men che meno la giuria. Al termine del processo, il 30 gennaio del 2013, Tony viene dichiarato colpevole dell'omicidio di sua sorella minore Gemma e condannato all'ergastolo con un minimo di 20 anni, prima di poter richiedere la libertà condizionale. Dopo la sentenza, suo padre Anthony decide di continuare ad avere contatti con il figlio, di andarlo a trovare in prigione e di scrivergli delle lettere. Anthony spiega che il suo cuore è già in frantumi per aver perso Gemma e non vuole perdere un altro figlio, nonostante ciò che lui ha fatto. Tony risponde sempre alle lettere di suo padre, ma con il tempo Anthony non sopporta più questa situazione e chiede al suo figlio di dirgli tutta la verità. Ma Tony non ammette mai di aver commesso un crimine, continua a sostenere di non ricordare nulla, inoltre non mostra alcun senso di colpa o rimorso. Così, dopo un po' di tempo, Anthony ne ha abbastanza e decide di non contattarlo mai più. Nel 2013, a un anno di distanza dall'omicidio di sua figlia, purtroppo anche Pauline muore, ma immagino che il dolore provato l'avesse già uccisa il giorno di quella tremenda notizia. Oggi abbiamo ripercorso uno di quei casi, perché ve ne racconto tanti, in cui si sviluppa un autentico dramma familiare, dove la fragilità dei legami o il confronto tra mondi opposti si svela in modo crudele e irreparabile. Rivolgo il mio ultimo pensiero a Gemma. Per lei, la famiglia non ha rappresentato soltanto il tradizionale santuario di affetti, ma anche il focolare in cui si è spenta la sua giovane vita. Ho finito di parlare di questo caso e, come al solito, io rimango bazita. Ci rimango sempre molto male quando leggo di fratelli che uccidono sorelle per gelosia o anche all'inverso. Io non riesco a comprendere fino in fondo questi omicidi. Non ci trovo un movente rilevante, onestamente. Poi, per carità, tutti gli omicidi sono sbagliati. Però, insomma, mi dispiace davvero un sacco per Gemma. Sembrava una ragazza davvero deliziosa, piena di vita, frizzante, con voglia di fare e, purtroppo, la sua vita si è spenta troppo presto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo caso. Lo conoscevate già? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Quindi, come al solito, come vi dico sempre, ci becchiamo nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!